Martedì 16 aprile, buongiorno a tutti voi, riprendiamo la nostra informazione con il telegiornale del mattino. In apertura parliamo di economia, in particolare dell'ITR, perché ieri sera si è tenuto a Campobasso un importante vertice in giunta regionale con i sindacati, la proprietà e la stessa regione per discutere del futuro dell'ITR. Allora vediamo come è andata in questo servizio di Enzo Di Gaetano. È terminato tardasera l'incontro tra giunta regionale ITR e sindacati ad accompagnare il patron bianchi e anche una delegazione di piccole imprese che gravitano nell'orbita ITR. La regione si è impegnata da subito col presidente Frattura a trovare tutte le soluzioni più immediate ed utili a garantire l'occupazione della più grande industria della provincia di Isernia. La fiduzione da 12 milioni non verrà ridotta, ma mantenuta in vita sempre con lo stesso importo per garantire un fondo di rotazione costante verso il sistema creditizio e si studierà la soluzione data in Puglia alla vertenza Bridgestone. Ancora una volta ci confrontiamo con il metodo della condivisione su un progetto a garanzia degli investimenti, soprattutto per il mantenimento dei livelli occupazionali. Ritengo che il metodo di lavoro sia quello vincente, soprattutto quando insieme siamo nelle condizioni di coinvolgere in maniera attiva e definitiva anche il livello centrale, quindi Ministero Economia e Sviluppo Economico, perché su questa filiera si facciano appunto fatti e non solo chiacchiere. Insomma un grande impegno tecnico della giunta, anche se la situazione delle casse regionali non è delle migliori. Ci troviamo di fronte a una situazione molto preoccupante, c'è il problema delle partecipate, c'è un problema grosso che non riguarda solo ed esclusivamente la città di Sernia, la provincia di Sernia, ma riguarda la regione molise nella sua piena interezza. Ci troviamo con un problema ITR che gravita sulle nostre spalle, pur essendo di competenza del Ministero. È chiaro che da parte nostra ci sarà il massimo della collaborazione, cercheremo attraverso anche l'elemento fideossorio prestato al Ministero per lo Sviluppo Economico in qualche modo di poter affievolire, creando anche un indice rotatorio rispetto agli affidamenti classici che un sistema bancario può offrire. E c'è stato chi come l'assessore al lavoro Petra Roia ha chiesto di accertare anche le responsabilità della gestione commissariale. Il Ministero ha nominato a suo tempo la terna commissariale della IT Holding che amministra un patrimonio, un patrimonio immobiliare e finanziario e il Governo centrale non può lavarsi le mani rispetto al fatto che in Molise e anche nel resto del Mezzogiorno ci sono mille occupati nella filiera tessile. Ho assistito a una gestione burocratica, una gestione che non ha avuto alcuna attenzione per i risvolti e le ricadute occupazionale e ho una scarsa vigilanza anche del Governo regionale che tutti insieme anche con i sindacati nazionali dobbiamo recuperare. Non avere tavoli al Ministero dell'Industria ci danneggia anche rispetto al riparto della Cassa Integrazione Inderoga. Prossimo appuntamento a breve quando Frattura sarà in grado di dare le prime risposte. Intanto la CGL prende posizione sulla crisi economica che colpisce le famiglie molisane e chiede l'intervento tempestivo della politica. Sentiamo Marcella Tamburello. Una crisi economica e sociale senza precedenti, quella che attanaglia oggi il Molise e l'Italia intera. Famiglie, imprenditori, operai e giovani sono sull'orlo del baratro a causa del lavoro sempre più scarso e delle tasse sempre più pesanti. In Molise e la denuncia della Filcams CGL i settori maggiormente penalizzati dalla crisi sono quelli del commercio, del turismo e dei servizi in generale. La nostra regione, ha criticato il segretario del sindacato Franco Spina, è in ginocchio e tutti attendono un cambio di rotta. La politica deve fare la sua parte, nessuno può rimanere fermo ad aspettare. Il popolo ha bisogno di risposte, ma soprattutto di azioni concrete. Se non riparte il lavoro, non riparte l'economia. I dati Istat sulla Cassa Integrazione e sulla mobilità sempre più alti, che interessano sia le piccole che le grandi realtà locali, confermano il pessimo andamento dell'occupazione e la continua fuga dei giovani molisani verso le regioni del nord, se non addirittura all'estero. Per invertire la marcia bisogna iniziare una collaborazione tra le varie parti interessate e la proposta della Filcams CGL. Lavoratori, aziende, sindacati e politica devono confrontarsi sulle scelte future ed organizzare il riordino dell'intero mondo lavorativo, partendo anche dalle leggi che ne disciplinano il settore. Non è possibile, ha aggiunto Franco Spina, che proprio il commercio e il turismo siano così penalizzati in Molise, settori che andrebbero valorizzati ed incentivati per lo sviluppo economico della stessa regione. Per questo, ha concluso il segretario del sindacato, richiederemo a breve al presidente Paolo Fratture, alla sua giunta, di avviare tavoli istituzionali permanenti, sia per la gestione della crisi di tutti i settori interessati, sia per elaborare insieme proposte normative future. Vi ricordo l'appuntamento con la trasmissione a carte scoperte in programma stasera alle 21.20 in diretta su Telemolise. In questa puntata si parlerà delle fibrillazioni nella maggioranza al Comune di Campobasso. Ospiti in studio i consiglieri Marilina Niro, Michele Colitti e Antonio Pietratca. Prosegue l'organizzazione del Campobasso Soul Beat Festival. Si tratta di sei appuntamenti imperdibili, con la grande musica da aprile a luglio al Blue Note di Campobasso. L'iniziativa è promossa dall'Associazione Via Nova e dallo stesso Blue Note e sarà presentata oggi alle 11 nello stabilimento della Molisana. Il primo concerto con il Trio Valore è in programma venerdì 19 aprile. Telemolise è media partner dell'evento. Bene, adesso invece andiamo a vedere la rassegna stampa del mattino. Il giornale del Molise.it è già pronto alle nostre spalle. La politica oggi in apertura. Regione presentati, i ricorsi elettorali. Il Molise ha ancora un senso. Si chiede il giornale de Molise.it in questo fondo, in questo articolo di apertura che porta la firma dell'editorialista Pasquale Di Bello. Andiamo a vedere anche il sommario. Sono tre i ricorsi elettorali presentati al Tarmolise. Quello principale chiede l'annullamento delle elezioni regionali per vizi formali legati al listino collegato a Paolo Di Laura Frattura. Si apre l'ennesimo capitolo di una storia infinita che dura da 13 anni. Scrive Di Bello. Tuttavia, a differenza delle volte precedenti, caratterizzate da una vittoria sul filo di lana, in questo caso si mette in discussione un risultato che con 36 mila voti di scarto, conclude nel sommario Di Bello, ha stabilito inequivocabilmente chi ha vinto e chi ha perso le elezioni. Questa è l'apertura dunque del giornale del Molise.it di oggi. Vediamo anche gli altri argomenti in evidenza. Isernina ha ucciso a colpi di Mattarello, 17 anni di carcere all'ex marito, la storia di Stefania Cancelliere. Poi ricorsi elettorali si chiede, l'annullamento delle elezioni regionali. L'articolo sull'argomento politica di Giovanni Minicozzi, ancora giunta frattura, promette un posto a rialzati Molise. Campobasso capitale dell'olio. In Molise incontri d'affari con i compratori esteri. Oggi l'incontro nella ex GIL a partire dalle 10 di questa mattina. Rifiuti zero, proposta di legge del Movimento 5 Stelle. Poi una notizia che riguarda Vasto Girardi. Senza internet e giornali, l'assessore provinciale di Lucente attacca il Comune. Altre notizie, chiaramente, riguardano l'Italia e il mondo. Lasciamo il giornale del Molise.it e andiamo a vedere gli altri quotidiani. Ecco, primo piano Molise, anche qui l'apertura dedicata alle vicende politiche regionali. Ricorsi elettorali, caos nell'Italia dei valori. Depositate ieri le istanze per chiedere l'annullamento del voto del 24 e 25 febbraio. Cosmo Tedeschi trascina davanti al tar di Pietro Junior, che sbatte la porta e lascia il partito. E nel mirino del centro-destra finisce anche la lista del PD. In bilico pure gli scranni dei due grillini, cefaratti contro la riammissione dei 5 Stelle. Ancora per la politica, giunta frattura senza donne, Adriana Itzi impugna i decreti. Poi a Venafro, tavolo del centro-sinistra, gli ex ADC ci riprovano. Mentre Sernia, la sinistra, prende le distanze da Brasiello. Andremo per conto nostro. In alto la notizia che riguarda il processo con rito abbreviato per la morte di Stefania Cancelliere. Omicidio Cancelliere condannato all'ex marito. Colombo dovrà scontare 17 anni. La procura ne aveva chiesti 30 delusi familiari di Stefania. L'hanno ammazzata due volte. Poi dal capoluogo va spasso ma ecceco. L'amico lo difende. Ha dovuto imparare a muoversi nel buio. Il caso del settantenne di Trevento al vaglio della procura. Vediamo a fondo pagina questa notizia di cronaca che arriva da Termoli. L'ite tra coniugi, lei gli getta l'acido in faccia e lo manda in ospedale. Vi segnaliamo due notizie di sport. La prima riguarda la Lega Pro. Lupi il giorno più lungo tra Notaio e Covizoc incontro Capone di Palma. Per quanto riguarda invece al lato la Serie D, Farina carica lisernia. Crediamo nell'impresa salvezza da conquistare. Questo per primo piano Molise. Andiamo sul quotidiano del Molise. regionali in bilico. Tre ricorsi al Tar. Farè Molise si oppone al Movimento 5 Stelle. Presto un'istanza per il riconoscimento della parità di genere in giunta. Vizi nel listino di fratture e nelle liste provinciali. Chiesto l'annullamento del voto. E poi terremoto nell'Italia dei Valori. Tedeschi contesta il seggio di Di Pietro. E lui se ne va. Vediamo in alto una notizia curiosa. La striscia in via Capitan Ventosa a caccia del Batman Isernino. L'agguato del collega, tra virgolette, supereroe in costume. E ancora centropagina. Cuore Molisano querela basso cardiopatici e sindacati contro il piano sanitario. Poi la cronaca a fondopagina uccisa a colpi di Mattarello per detto che sa di assoluzione. Solo 17 anni al marito assassino di Stefania Cancelliere. A lato, prime due liste civiche per Brasiello. Isernia verso le comunali. Una notizia che riguarda anche Termoli. Qui a lato, documenti spariti in comune. Si indaga. E andiamo a vedere poi ancora le altre notizie. Nella parte bassa della prima pagina oggi del quotidiano del Molise. Esodati in 134 all'ITR. Cassa integrazione fino a giovedì. Poi assemblea provinciale. Il PDL riparte da Termoli. Sport infine anche sul quotidiano del Molise. Lega Pro alle 11 incontro dal notaio tra Capone e Di Palma. Serie D. Il Termoli non molla e si prepara al rush finale. Lasciamo anche il quotidiano del Molise. Ecco la prima pagina dei fatti del nuovo Molise. Anche qui apertura dedicata alla questione dei ricorsi. Regionali ci risiamo di nuovo. Presentati dei ricorsi contro il risultato elettorale. Presunte irregolarità sul listino di Paolo Frattura. Voto di febbraio. Sotto osservazione anche altre liste del centro-sinistra. E sulla questione politica regionale. Continua i fatti del nuovo Molise. Con il richiamo più in basso. Di Pietro Junior indifeso. Migra nel misto e annuncia la prossima resa dei conti. Poi si parla di sanità. Tra lato, tagli ospedalieri, cuore molisano, querela il commissario basso. Ancora per la sanità, la ricerca di molisani si inserisce nello studio della frequenza cardiaca. Le altre notizie del giorno che troverete all'interno oggi dei fatti del nuovo Molise. Unimo, il nuovo rettore, dice il quotidiano, l'ombra di Patriciello. Sulla corsa alla carica del professor Raffaele Coppola. Luigi Brasiello vince le primarie, perde dei pezzi per strada. Da federazione sinistra, parla di incesto politico. A Filignano vanno a fuoco quattro ettari di bosco. Sono intervenuti anche due canadere. Poi omicidio cancellieri. La parte civile parla di sentenza scandalo. Questo anche per i fatti del nuovo Molise. Diamo uno sguardo alle pagine interne del tempo dedicate alla nostra regione. Il delitto cancelliere, l'ex marito condannato a 17 anni. Maxi risarcimento da un milione e mezzo per i figli. E la famiglia di Stefania. Roberto Colombo uccise la donna con 80 colpi di mattarello. Regione contro frattura presentati tre ricorsi. Poi la notizia riportata anche dal tempo che riguarda l'intervento di Striscia. La notizia Isernia. In cerca del Batman Isernino, come tutti ormai lo chiamano. E andiamo a fondo pagina. Brasiello si prepara a conquistare la città. Nel centro-destra, trattativa ancora in corso per individuare il candidato sindaco. Proseguiamo con la lettura del tempo. Andiamo a Larino. Il Tare in soccorso allo studente disabile. I giudici di Campobasso. Il diritto all'istruzione è garantito dalla Costituzione. Ha colto dunque il ricorso dei genitori del ragazzo, al quale erano state tolte 14 ore su 18 di sostegno a settimana. Una notizia che riguarda l'ambiente a Termoli. Ambiente Basso Molise denuncia le dune minacciate dall'incuria. Poi ancora da Termoli, in procura contro il piano sanitario, i cardiopatici presentano un esposto sulla nomina del commissario. E infine una notizia che riguarda un evento in programma questa mattina alla ex GIL di Campobasso sull'olio molisano. L'olio molisano, la conquista dei mercati esteri. Appuntamento a partire dalle 10. Per quanto riguarda il tempo, vediamo anche il sannio quotidiano che è qui l'apertura dedicata alle vicende politiche regionali. Presentati i ricorsi elettorali, ieri l'ultimo giorno per depositare gli atti al Tribunale amministrativo, da Pierpaolo Nagna, Carmelo Parpiglia, solidarietà al consigliere Cristiano Di Pietro dell'Italia dei Valori, che ha deciso di sospendersi la vicenda, quella del ricorso di Cosmo Tedeschi. Ora andiamo sulla stampa nazionale con l'aiuto del nostro touchscreen, partendo dal Corriere della Sera. Naturalmente ampio spazio sui quotidiani nazionali a quello che è accaduto a Boston, all'attentato alla maratona che ha causato feriti e morti. Andiamo a vedere come apre dunque oggi il Corriere. Ecco qui il titolo. Bombe alla maratona terrore in America, almeno due morti. C'è un bambino di otto anni, Obama parla alla nazione, pagheranno più di cento feriti a Boston. Sangue ovunque, è stato un attacco coordinato, rafforzata la sicurezza alla Casa Bianca. Questo per quanto riguarda l'apertura di oggi del Corriere della Sera. Da Corriere andiamo sul Tempo. Nella volata al Colle, il PD rischia la fine miserabile. Insulti nel partito, Finocchiaro e Marini contro Renzi. Casaleggio boccia i politici, Prodi e Bonino poi ci ripensa. Anche qui sul Tempo oggi le immagini drammatiche che arrivano da Boston. Sangue sulla maratona di Boston. Titola Il Tempo. Dal Tempo andiamo sulla Gazzetta del Mezzogiorno che in apertura si occupa delle vicende politiche nazionali. PD, la rivolta contro Renzi. Il rottamatore, ho detto ciò che pensano tutti. Letta, rischio, scissione. E Casaleggio chiude e apre a Prodi. Lo votiamo se il Movimento 5 Stelle lo vota. Lasciamo anche la Gazzetta. Andiamo sull'unità. L'unità che dice nel PD è scontro con Renzi. Dopo gli attacchi, dure reazioni di Finocchiaro e Marini, accuse miserabili, la religione usata a fini politici. Poi parla anche il sindaco che dice, finché mi sarà possibile, dirò la mia. Letta commenta, allarme per la tenuta del partito. Dall'unità andiamo sul manifesto che si riferisce alle polemiche interne al PD. Qui c'è una foto di Bersani in evidenza, preso per il colle. Gioca sul titolo il manifesto. Andiamo a vedere anche il sottotitolo. Come nella peggior tradizione democristiana, commenta il manifesto, la partita del Quirinale scatena nel PD la guerra. Per Correnti, Renzi in pallina, Marini e Finocchiaro. Il segretario non offre nomi fuori dai giochi. Si decide all'ultimo addetto. Il governatore della Toscana, Rossi, Matteo Gioca col fuoco. Oggi il Movimento 5 Stelle dirà qual è il suo candidato. Lasciamo anche il manifesto. Vediamo libero come apre oggi. Faida in famiglia per una poltrona. Si occupa anche libero di quello che sta accadendo nel centro-sinistra. Chiaramente con il punto di vista di un giornale di destra. Andiamo a vedere il titolo in evidenza. Faida in famiglia per una poltrona. PD partito distrutto. Lo sgambetto di Renzi a Marini e Finocchiaro in corsa per il Colle. Fa saltare i nervi a tutti. Volano i coltelli con menta libero. Mentre si scannano per il bene del paese. Torniamo a votare. Aggiunge il quotidiano. Lasciamo anche libero. Vediamo il mattino. Mattino che si occupa delle drammatiche vicende che arrivano dagli Stati Uniti. Attacco a Boston, USA nell'incubo. Bombe sulla maratona. Tre morti e 64 feriti. Panico tra la folla. Trovati altri ordigni. Poi aggiunge il mattino. 12 anni dopo le torri gemelle. Il terrorismo torna a insanguinare l'America. Chiuso lo spazio aereo. Massima allerta a New York e Washington. Dal mattino andiamo a vedere anche l'apertura di Avvenire che ha preparato con queste vicende di cronaca che arrivano dagli Stati Uniti. Terrore e sangue sulla maratona. Boston esplosioni a catena alla fine della corsa. Almeno due morti. Centinaia. Le persone che sono state colpite nelle deflagrazioni. L'ultima frazione della gara era dedicata alle persone rimaste vittime nella scuola di Newtown e al contrasto alle armi. Questo il commento di Avvenire. Proseguiamo con la lettura degli altri quotidiani. La Repubblica. Terrore in USA. Bombe sulla maratona. Attentato a Boston. Morti e più di cento feriti. Incubo al Qaeda. Allerta a New York e Washington. Due ordigni sono esplosi all'arrivo della corsa. Dubbi su un terzo alla biblioteca dedicata a Kennedy. L'FBI dice ancora. Non è chiaro il movente dell'azione. Obama parla alla nazione. Le altre vicende in apertura oggi sulla prima pagina di Repubblica riguardano la politica nazionale. Rissa nel PD sul Quirinale. Sfida amato Prodi Marini. La stampa. Boston bombe alla maratona. Due morti oltre cento feriti. Gli artificieri fanno brillare altri ordigni. E poi in alto caos nel PD. Divisi anche sul Quirinale. Messaggero. Stessa apertura. Boston un terrore alla maratona. Doppia esplosione vicino alla linea d'arrivo. Il messaggero parla di due morti e 22 feriti. Trovati altri ordigni. Un attentato. Chiuso lo spazio aereo. Allerta a New York. Il giornale invece si occupa delle vicende politiche interne al centro-sinistra. Guerra civile a sinistra, dice il giornale. Miserabile PD, dopo il segretario anche Finocchiaro e Marini, insultano Renzi, democratici mai così spaccati. E poi incubo attentati in America. Terrore morti alla maratona. Vediamo sole 24 ore. Draghi striglia le banche. Tassi alti. È sconcertante che le piccole imprese soffrano. Da loro tre quarti dell'occupazione, ha detto per il presidente della Banca Centrale Europea. Gravi conseguenze per l'economia dell'Eurozona. La soluzione per la crisi è ritornare alla competitività. Chiudiamo con la Gazzetta dello Sport. Anche se oggi il titolo più grande, quello in evidenza, non riguarda proprio lo sport, ma i fatti di cronaca accaduti negli Stati Uniti. Boston strage alla maratona. L'attentato alla storica corsa. Prendevano parte quasi 24.000 persone. Terrore e morte. Due bombe esplodono sul traguardo. Almeno due vittime, 100 feriti. Allarme terrorismo negli Stati Uniti. E questa per quanto riguarda l'apertura della Gazzetta dello Sport di oggi. Bene, è tutto per il primo appuntamento della giornata con l'informazione di Telemulise. Grazie per averci seguito. E vi ricordo che naturalmente la nostra informazione torna puntuale, come sempre, alle due, in diretta con il telegiornale di Telemulise. Per il momento è tutto. Buona giornata a tutti voi. Buona giornata a tutti voi.